Ciao a tutti ragazzi da 100% Social e benvenuti in questo nuovo video. Dopo quattro anni in cui ci sono state la mente, le piagniste, i continui, gli insulti sulle pagine del Frosinone, mi aspettavo sinceramente qualcosa di più dal Palermo, ma evidentemente erano troppo concentrati a ricordare cose di quattro anni fa che non stare sul pezzo per la partita e quindi Frosinone, l'unico pallone che contava, l'ha messo dentro nella porta del Palermo. Ci sta, è il calcio e noi vinciamo e loro continueranno a fregnare in altro po'. Tra l'altro poi continuano adesso, eh vi aspettiamo a Palermo, ogni volta si va avanti verso la tappa successiva, insomma. Frosinone che dunque torna a vincere, in casa striscia positiva, magari non con la stessa intensità delle altre partite e con il gioco espresso a sprazzi durante la partita, non come le altre, però un Frosinone che alla fine vince e convince, è concreto, poche occasioni, nel primo tempo soprattutto, quella di Lucioni che ha colpito di testa e poi davanti alla porta il difensore l'ha respinta e il tiro di Moro deviato che è andato dentro. Nel secondo tempo, il palo di caso e qualche azione in contropiede che poteva essere sicuramente sfruttata meglio, e Palermo che è venuto fuori praticamente gli ultimi venti minuti, senza però rendersi effettivamente mai pericoloso, forse su un tiro di Di Mariano, l'occasione più concreta del Palermo, e nel primo tempo, all'inizio praticamente, dopo pochi minuti, Coné sbaglia un passaggio in mezzo al campo, la intercettano, vedete il Palermo, va a Brunori che preferisce scattare il portiere, ma invece che tirare praticamente da solo, e Turati allontana il pallone. Quindi, una partita un po' tirata, però si sono viste anche cose buone. Frosilone che tra l'altro poi, rispetto alle altre partite, ha cambiato anche in termini di uomini, mettendo soprattutto in difesa, cambiando un pochino, Fra Botta, Ravanelli e Sampirisi, con il solo lucione dei titolari, diciamo, e a centrocampo, Mazzitelli, accanto a Coné, con Bologa spostato nel ruolo di Rodian, quindi sull'esterno del 4-2-3-1. Questa decisione, ecco, di prendere tutti questi cambi di uomini, da subito, si è un po' fatta risentire, perché comunque non c'era uno dei meccanismi collaudati, che magari con i titolari ci sarebbero stati. Qualche situazione in cui magari si poteva spazzare tranquillamente la palla, veniva rimesso in gioco praticamente il Palermo, lì, un attimino, con dei colpi di testa che potevano essere mandati da tutt'altra parte, venivano mandati verso i giocatori del Palermo, ma quelli poi sono cose del momento che devi trovarti lì, giustamente, per vedere cosa fai poi tu effettivamente. Poi, la parentesi dei tifosi del Palermo con i palloncini, loro molto convinti, perché loro ci tenevano alla vendetta, ci tenevano tanto, li ho anche applauditi, poi però è partito un bel coro di schermo da parte nostra. Poi erano talmente convinti di vendicarsi che non si erano accorti che stavano attaccando mentre li buttavano e quindi per un paio di minuti si era fermato un attimo il gioco mentre stavano attaccando loro e stavano perdendo. Poi erano talmente convinti di volersi vendicare che non si sono accorti che il pallone che serviva gli è entrato in porta, ma tant'è. Detto questo, questa parentesi Palermo finisce qua perché per adesso devono accettare il fatto che hanno perso. Vedremo a ritorno, per carità lì tutto può succedere, l'influsione magari perde pure di brutto, però poi staremo a vedere. Adesso c'è la pausa, servirà, ecco, magari per recuperare un po' di condizioni, soprattutto spero per Rodien, non so, Iono. visto che sarà proprio fratturato lo scafoide, mi pare, quindi forse ci vorrà anche un pochino di più, però una sosta che ci servirà insomma per recuperare energie in vista poi di un'altra partita delicata come quella col Parma, un'altra squadra di quelle che sono già arrivate per tutti, già ma prima dell'inizio del campionato il Parma, il Genoa, queste vincono, stravincono il campionato ogni anno, vabbè, noi non ci diamo troppo peso. Per questo video è tutto, mi invito a essere canale e noi ci vediamo dopo la sosta per Parma Frosinone. Ciao!